e questa sera bolla una nuova tappa del concorso miss e mister belli d'italia occhio alle immagini la serata comunque una serata ricchissima di concorrenti tra le miss tra i mister bambini lady e comunque me lo aspettavo comunque un grande boom stasera serata importante un grande evento qua in bocca al lupo a tutte le ragazze il compito del concorso il compito della giuria è molto gravoso perché noi in pochissimi secondi dobbiamo giudicare un mix estetica apportamento e anche espressione quindi non è che sia tanto facile però cercheremo di fare del nostro meglio di essere obiettivi e selezionare quelli là che a nostro avviso hanno le qualità per poter andare avanti e 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